mamma mia per carità per carità juve che vince 1 a 0 come volevo dimostrare juve 1 prima zero non mi estupisco le niente esattamente la partita che mi aspettavo sinceramente e quindi la schifizia secondo me due tir in porta mi pare cristante di bala un palermo ha preso all'inizio partita per il resto solita partita con il 10 1 solita partita però fa quasi poco o niente secondo me loro hanno fatto qualche tiro in più e hanno fatto un gol in più questo problema sicuro sono desolato sinceramente a me la vittoria contro il napoli mi ha detto poco e mi ha detto niente sinceramente anche perché secondo me è più la stronzata del puritano che non la vittoria proprio della roma secondo me e oggi poca roba poca roba come al solito siamo qui sempre ripete sempre le stesse insomma credi sinceramente oramai sto campionato per neppole finito qui chiaramente e quindi niente nemmo un attimo un po le dati ma sono proprio desolato ed è russo sinceramente solita roma solite cose mi aspettavo nient'altro questa partita giustamente lui lo sultano e noi altri ce l'abbiamo riccamente nel culo ne vedete bella di bella azione quella del gol con arabio e volavovic oggi secondo me io rente male 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 mentre indica bene bene ha fatto un salvataggio se non potesse anche 2 a 0 non mi ricordo sugli appare costi ce la pare oggi lukaku male non ha strusciato una palla hanno fatto praticamente un cazzo mi dispiace dirlo ma oggi davvero malissimo migliori in campo secondo me cristanti penso alle roba e viene da ride e quindi niente brutto capodanno e adesso appuntamento alla prossima partita che sarà contro chi cazzo era contro l'atalanta anzi mi pare prima c'è ma la coppa italia se non sbaglio boh mi ricordo comunque poco cambia secondo me per loro vieni in campo sono d'accordo mckenny rabbiola blaovic e di bara si sono d'accordo e quindi mckenny tra l'altro un giocatore che spesso e volentieri era stato criticato invece sta a fare un ottimo campionato secondo me e quindi niente giove che vince e la roma che perde come al solito cambia niente come soprattutto in casa loro non si riesce mai a fa niente quindi mi aspettavo questo e questa è è stata la fine partita da hand partita da uno partita da no gol qualunque cosa mettevi di sul sicuro e quindi niente finisce l'anno ma io sinceramente della roma non so contento per niente se devo dire la mia voto altamente insufficiente soprattutto questa stagione sul 2023 e la finale sì ma ormai la finali hanno passato e non credo che stanno faremo qualche finale questo gioco se devo dire la mia e quindi niente sono desolato e so affranto sinceramente sotto il cazzo sinceramente tanto le partite che vanno finisce sempre allo stesso modo senza mai una sorpresa ma in qualcosa di diverso e quindi niente tanto sotto una serie è stata una vera schifezza se devo dire la mia come ho detto se non sbaglio ho detto anche prima ma se tocca giocante sto modo io ripristinerei la sosta natalizia perché è stata il turno della serie a orribile sfido chiunque apprende qualcosa questo turno della serie a ha fatto bene chi non ha giocato niente perché è stato orribile orribile è stato orribile da vedere tutte le partite quasi e quindi niente complimenti alla juve perché ha vinto che vince ha sempre ragione rabbio ottimo giocatore tanti dicono che fa schifo intanto però segna è sempre quasi sempre decisivo cazzo 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 boh e quindi niente io che vinci 1 a 0 vuol dire cavallo pazzo da più roma che come al solito gioca poco o niente tira poco o niente e quei pochi tiri che fanno sembrano sfigati perché vanno sul palo e quindi niente c'è ben poca altra di che se non che secondo me a giugno bisognerebbe fare una sradicazione a parti dalla base dei giocatori e allenatore compreso oramai sanno tutti da me morigno proprio non mi dice un cazzo di niente per me è finito è strafinito secondo me un allenatore da 2023 magari da 2010 ma non da 2023 calcio avanti e si modernizza quindi non funziona per me infatti i risultati lo dimostrano ampiamente e quindi niente appuntamento alla prossima che tra l'altro sarà mi pare contro l'Atalanta e attenzione perché anche l'Atalanta non è male come squadra è molto discontinua come noi altri ma però quando gioca fa male e quindi attenzione cacchio e dammoci una bella svegliata perché sarebbe ora aspetta che volevo vedere un attimo contro chi cazzo giocamo calendario computer lento come la cacca questo eh sì 5 gennaio giochiamo il 7 gennaio Roma Atalanta esatto in casa eh in casa non la diciamo meglio ma però non mi fido lo stesso perché la Roma altamente riscontina anche essa quindi sarà da tripla anche quella ma ci penseremo a tempo liberi per i pronostici adesso gustammoci le feste per quanto che siano un po' secondo me molto amare queste feste per carità sta Roma per carità sinceramente sto a perdere la pacienza e non poco e quindi niente appuntamento alla prossima è sempre 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 forza Roma però porca puttana dammoci una cazzo le svegliata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti